Il principe Harry è stato accusato di aver colpito il principe Carlo con diversi pugni durante la sua esplosiva intervista con Oprah Winfrey. Durante il documentario sulla famiglia reale di Channel 5 e Charlotte Harry, Father and Son Divided, i commentatori reali Julie Montague e Angela Mutanda hanno discusso della relazione tra il principe Carlo e il principe Harry. La signora Montague ha dichiarato che il principe di Galles è stato buttato a terra da diversi scavi verbali mirati contro di lui dal duca di Sussex durante la sua intervista con Oprah Winfrey nel marzo 2021 la signora Montague ha dichiarato. La persona che è stata davvero sbattuta a terra in quell'intervista con diversi pugni è stato il principe Carlo al 100%. Punto. Il risultato di quell'intervista era che c'è una vera frattura. C'è una reale distanza. C'è una vera rabbia. La signora Mutanda ha aggiunto. Si vedeva che era difficile per Harry parlare del suo rapporto con la sua famiglia. Ma allo stesso tempo, voleva, voleva trasmettere un messaggio attraverso il quale ha lottato profondamente con quello che stava succedendo. E che ci sono fratture nelle relazioni. Queste sono dichiarazioni sismiche da fare sui propri familiari. Mi chiedo dal punto di vista di Charles, si sarebbe sentito molto esposto da suo figlio. Secondo la commentatrice reale Katie Nicole, il principe Harry è contento dell'accoglienza ricevuta dalle sue esplosive osservazioni recenti. La signora Nicole ha detto a E.T. che il Regno Unito è scioccato dal principe Harry che si è spinto fino in fondo nel discutere il dolore e la sofferenza della sua infanzia nella famiglia reale dopo l'ultimo colpo del duca di Sussex alla genitorialità del principe Carlo durante un'intervista su Armchair Expert Podcast. Ha detto. Penso che qui nel Regno Unito sia rimasto molto scioccato dal fatto che il principe Harry sia andato così lontano come ha fatto. Penso che il podcast abbia sicuramente sollevato le sopracciglia al palace. Per avere il principe Harry, invece di, costruire ponti, criticare apertamente suo padre e forse anche i suoi nonni.